Ed è pronta la nuova mappa per i controlli con gli autovelox nel Potentino, tante le strade interessate e nessuna novità per il capoluogo. Ma sentiamo i dettagli con Giovanni Rivelli. C'è una direttiva del 2017 che ha fornito ulteriori elementi che consentono di attualizzare il quadro della situazione delle strade a maggiore pericolosità. E questo è il motivo per il quale ho ritenuto che essendo il nostro provvedimento antecedente rispetto a quello del 2017, occorre procedere quindi all'aggiornamento. Non sono trascorsi nemmeno sei mesi dall'annuncio e la nuova mappa delle strade del Potentino su cui è possibile utilizzare autovelox fissi, prima ferma al 2010, è pronta. Ma se nei giorni dell'annuncio i potentini speravano che il risultato avrebbe inciso sul tema caldo dei controlli nel capoluogo, ora sono rimasti i delusi. Confermata la possibilità di accertamenti tanto sulla variante SS7, dove c'è l'impianto di Costa della Gaveta, sia sulla fondovalle di Via dell'Unicef e sul tratto comunale della Potenza Melfi, dove ci sono altri impianti molto produttivi e ancora sulla per ora libera tangenziale. Il provvedimento ha una portata ben più ampia rispetto al solo capoluogo, 21 le strade nel Potentino controllabili con postazione fissa, alcune come Potenza Melfi, Titobrienza, Fondovalle del Noce e Basentana per l'intero tracciato, altre tra cui Sinnica, Fondovalle dell'Agri o Bradanica per ampissimi tratti. Bene insomma andare col piede leggero sull'acceleratore, per la tasca, ma ancor più per la sicurezza. Bene insomma.